ricordati sempre di spalancare la bocca perché se tu non prendi una nota è perché o spingi troppo con in generale spingi troppo metti troppo fiato o e tieni la bocca troppo chiusa di tenere la bocca troppo chiusa la voce non esce ok allora tu adesso hai aggiunto una cosa in più che ci sta benissimo ovvero il vibrato il vibrato è di solito si mette alla fine di una nota per tenerla lunga è una differenza di mezzo tono tu hai fatto questo barcollare diciamo così questo mezzo tono di differenza però ci sta bene alla fine perché ti permette di essere più preciso nell'intonazione quindi nella i tienilo il vibrato ti sostiene la nota vedi se tu non pensi a come mettere la bocca come impostarti e associ il suono ad una situazione ti esce in automatico a